Stasera, 16 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna l'appuntamento con il grande fratello e Alfonso Signorini, in compagnia dell'opinionista Cesara Buonamici e della voce del popolo Rebecca Staffelli, che si occupa di riportare gli umori dei telespettatori. Gli inquilini della casa allieteranno questi giorni prenatalizi con uno show arricchito dalla presenza di due ospiti d'eccezione, Mietta e Donatella Rettore, amica di lunga data di Fiordaliso, che con l'occasione potrà riabbracciarla. Ci sarà una bellissima sorpresa per Paolo Masella. L'inquilino vivrà un momento speciale grazie a un inaspettato incontro. Ci sarà un nuovo confronto tra Mirko e Greta, poi ci sarà l'atteso momento dell'addio tra uno dei cinque concorrenti in nomination. Beatrice, Sara, Vittorio, Grecia e Perla. Grande fratello, Alfonso Signorini fa una sorpresa ai concorrenti. In attesa dell'inizio della puntata del Grande fratello, agli inquilini è arrivata una bellissima sorpresa da parte di Alfonso Signorini, alcuni pacchi con dei regali natalizi e biglietti di auguri. Il conduttore è entrato nella casa con una comunicazione sul prolungamento del reality show. Si è intrattenuto con i concorrenti e ha svelato un divertente aneddoto che riguarda lui e la chef Rosie Chin. Una rivelazione che ha divertito anche il pubblico. Grande fratello, Alfonso Signorini fa una sorpresa ai concorrenti. Rosie è stata la mia vicina di casa almeno 15 anni fa. Ho amato la sua discrezione quando è entrata e non ha detto nulla.